Cosa è successo in settimana al settore delle criptovalute? Il mercato delle criptovalute ha vissuto una settimana ricca di eventi con Bitcoin che ha fatto nuovi massimi storici ha realizzato infatti l'all time high la scorsa settimana prima di consolidare, diciamo ritracciare in una zona attorno ai 67.000-68.000 dollari in cui staziona in questo momento Ethereum ha poi lanciato il suo aggiornamento in mainnet Dancun che è rivolto ai layer 2 e che consentirà di abbassare le commissioni, quindi le fee, su tutti i protocolli di livello 2. Continua poi la crescita inarrestabile di Solana grazie anche all'MmCoin in questo momento ha superato i 200 dollari e sembra essere proprio diretto verso nuovi all time high. E poi una notizia che ha fatto esultare il mondo cripto un giudice del Regno Unito ha infatti stabilito che Craig Wright, l'eclettico imprenditore australiano che diceva e ha sostenuto per tanti anni di essere Satoshi Nakamoto che in realtà non è né l'inventore di Bitcoin né l'autore del white paper. Sul fronte tecnologico poi vedremo alcuni sviluppi con Injective Protocol che lancia un interessante progetto e poi EtherFi, un nuovo airdrop su rete Ethereum. Andiamo allora a vedere quali sono le notizie più importanti del mercato cripto. Ciao ragazzi e bentornati sul canale di Webeconomia.it in questo nuovo Crypto Summary. Oggi faremo come sempre un breve riepilogo della settimana appena passata per capire come si sta muovendo il mercato e in quale direzione stiamo andando. Come prima cosa ti segnalo la newsletter su Substack che è completamente gratuita. Se non sei ancora iscritto ovviamente iscriviti. Anche in questa settimana come vedi abbiamo pubblicato le notizie di cui parleremo in questo Crypto Summary proprio sulla newsletter. Ti basta andare su Substack oppure sul sito di Webeconomia.it e trovi il form di registrazione anche alla newsletter. Poi ti segnalo anche il nostro canale Telegram se vuoi rimanere aggiornato con tutte le novità. Anche questo è completamente gratuito quindi ti puoi iscrivere tranquillamente. Detto questo prima di partire non dimenticare di mettere un bel like e iscriverti al canale attivando tutte le notifiche per rimanere aggiornato con tutti i prossimi contenuti. Ovviamente a te non costa nulla e a me aiuta a far crescere questo canale. Bene non perdiamo altro tempo e partiamo subito con le notizie. Come prima cosa vediamo come sta andando il mercato andando sul sito di CoinMarketCap. La notizia principale è sicuramente il nuovo rally di Bitcoin che ha iniziato la settimana in grande stile superando per la prima volta la soglia dei 73.000 dollari e segnando un nuovo record storico. Tuttavia la gioia degli investitori è stata di breve durata. Dopo aver toccato infatti il massimo il prezzo di BTC ha subito una brusca correzione arrivando a toccare anche i 64.000 dollari. Come vedete in questo momento il prezzo è attorno all'area dei 67.700-68.000 dollari. Secondo gli analisti la pressione di vendita è stata innescata da una combinazione di prese di profitto e timori per l'inflazione negli Stati Uniti. Nonostante il calo molti osservatori rimangono comunque ottimisti sul futuro di Bitcoin. Se andiamo a vedere comunque il grafico avrete notato che eravamo veramente iperestesi e comunque ci saranno in futuro anche quando toccheremo dei livelli più alti se mai li toccheremo delle prese di profitto da parte degli investitori. Quindi oscillazioni normali per quanto riguarda il prezzo di Bitcoin. Se andiamo a vedere le varie finestre temporali vedete che un mese fa il prezzo era nettamente più basso. La dominance di Bitcoin comunque rimane attorno al 52% ancora molto alta mentre la capitalizzazione complessiva è ormai superiore a 1,3 trilioni di dollari. La capitalizzazione generale invece del mercato come vedete qui si attesta attorno ai 2,5 trilioni di dollari cioè circa 2.500 miliardi di dollari. Anche Ethereum sta beneficiando dell'ottimismo sul mercato con un rialzo nell'ultima settimana che lo aveva riportato come vedete proprio fino alla soglia dei 4.000 dollari. Come vedete qui il 13 marzo la blockchain di Ethereum ha implementato con successo l'attesissimo aggiornamento Dan Kuhn che introduce una nuova modalità di archiviazione dei dati chiamata proto-dunk sharding. Parleremo di questo aggiornamento nella prima notizia di questo crypto summary. I investitori ora guardano con favore agli sviluppi della rete oltre a un probabile arrivo di un ETF spot anche per quanto riguarda Ethereum. L'analisi tecnica mostra come Bitcoin abbia subito una leggera fase di correzione dopo l'euferia massima che lo aveva portato al prezzo come vedete qui di circa 74.000 dollari. Realizzando un nuovo massimo storico prima dell'Halving un evento che non si era mai verificato prima. Nonostante il calo gli analisti ritengono che questa correzione sarà di breve durata poiché i livelli più bassi attireranno ancora di più acquisti consistenti da parte degli investitori degli ETF spot su Bitcoin. Come vediamo dal grafico di TradingView il prezzo di BTC si trova ancora ampiamente sopra le medie mobili da 50 e a 200 periodi e sembra voler continuare ancora al rialzo dopo una pausa che è stata presa nel weekend che ha riportato BTC a prezzi più vicini ai 68.000 dollari. Personalmente non mi dispiacerebbe vedere una certa lateralizzazione in questo range prima dell'Halving. Su time frame giornaliero il prezzo ha superato come abbiamo detto il precedente massimo storico ed è stato scambiato per la prima volta sopra i 70.000 dollari. Un probabile obiettivo di breve termine è il livello di resistenza psicologica dei 75.000 dollari. Raggiungere questa zona probabilmente comporterà un ritracciamento ulteriore di breve termine che potrebbe riportare a un retest della zona del precedente all time high ovvero ai 69.000 dollari. Comunque il prezzo come vedete si muove molto lontano dalla media mobile 200 giorni che si attesta ai 40.000 dollari e potrebbe essere solo una questione di tempo prima che Bitcoin entri comunque in un'altra fase di correzione o consolidamento più prolungato. Quindi per il modello rialzista il livello psicologico secondo me attorna i 75.000 dollari e rappresenta comunque una resistenza abbastanza importante. Se il prezzo dovesse superare questo livello potrebbe aprire la strada verso nuovi massimi ulteriori con un prossimo obiettivo potenziale agli 80.000 dollari. In caso di ribasso invece il livello dei 69.000 dollari che corrisponde al precedente massimo storico potrebbe fungere da supporto chiave. Al di sotto di questo livello ci potrebbe essere un'inversione del trend rialzista di breve termine e un potenziale ritracciamento verso la media mobile a 50 giorni che si attesta attualmente attorno ai 55.000 dollari. Finché il prezzo rimane al di sopra di questi supporti chiave il sentiment generale del mercato rimane comunque rialzista. Abbiamo detto che quando si raggiungono determinati livelli chiavi molti partecipanti al mercato potrebbero essere tentati di realizzare alcuni profitti. Tra questi ci sono sicuramente i miners. Non è semplice comunque capire se la pressione di vendita si sta allentando su bitcoin. Possiamo però dare un'occhiata a questo grafico che ci mette a disposizione di CryptoQuant che rappresenta il Miner Position Index cioè un semplice indice che viene progettato per segnalare un comportamento di vendita considerevole da parte dei miners. Tipicamente valori superiori a 2,2,5 indicano una pressione di vendita insolita da parte dei miners. Dal grafico però sembra che la pressione di vendita in quest'ultimo periodo sia leggermente diminuita. Questo indica che i miners non stanno più vendendo grandi quantità e stanno realizzando dei profitti solo per coprire le spese operative. Pertanto il loro comportamento attuale non mostra segni preoccupanti e con la loro offerta in diminuzione bitcoin può salire comunque a prezzi più alti nei prossimi mesi. Soprattutto se consideriamo che abbiamo ancora l'alving. Ovviamente ci sono tanti altri dati che possiamo leggere e analizzare nessuno però ti può dire con certezza come si comporterà il prezzo di bitcoin. Andiamo allora a vedere quali sono le altre notizie più importanti della settimana. Vediamo come si stanno muovendo brevemente le principali altcoin in particolare Solana vedete qui che ha vissuto una settimana straordinaria. Il volume delle transazioni sulla sua rete come vedremo ha raggiunto un nuovo massimo storico grazie anche all'esplosione delle meme coin come WIF e Bonk e c'è chi già cerca la prossima Bonk su cui speculare soprattutto tra i retail. Tra i migliori della settimana vedete che abbiamo Jupiter che fa 82,27% poi abbiamo Solana, poi la meme coin WIF sempre su rete Solana, Toncoin più 35%, Avalanche più 35%, Conflux 25%, Pit Network che è l'oracolo decentralizzato della rete Solana più 24% e poi a seguire abbiamo MakerDAO, 0x Protocol, Near Protocol che sta facendo ottime performance, Quant, Aptos e a seguire tutti gli altri. Il mercato è in una fase euforica anche se ancora non abbiamo visto decenni di alt season. Ne parleremo più avanti quando citeremo il video della settimana. Per il momento la dominance di bitcoin come vedete è ancora vicina al 52%. Se andiamo a vedere alcuni nomi importanti del mercato notiamo che sono ancora lontanissimi dal loro all time high, alcuni sono addirittura almeno 60-70%. Ovviamente non è detto che queste crypto facciano nuovi massi nel corso del prossimo ciclo. Se andiamo a ordinare tra i migliori della settimana naturalmente troviamo Bitcoin Satoshi Vision dopo la notizia che vedremo su Craig Wright e il processo a Copa. Poi abbiamo Optimism che fa un meno 25%, Flochi meno 24%, Sats che fa meno 22%, Icash meno 21%, Poi a seguire BitTorrent, LidoDAO, Gala, Mantle, Helium, ImmutableX, Decentraland, Decentbox. E notiamo che tra questi nomi negativi ci sono molti progetti legati al metaverso e al gaming. Andiamo allora a vedere le altre notizie. La notizia principale è sicuramente relativa all'aggiornamento Dan Kuhn per Ethereum. Qui vedete in questo tweet di Tim Beko che la blockchain di Ethereum ha infatti finalizzato con successo il tanto atteso upgrade, un passo fondamentale verso la scalabilità a lungo termine della rete. Dan Kuhn è noto anche come AP4844 e introduce il cosiddetto protodunk sharding, una tecnologia che riduce drasticamente i costi di archiviazione dei dati per le transazioni. Si tratta infatti di un aggiornamento che rende Ethereum più scalabile e abbassa le fee, come vedremo in particolare sui layer 2. Ma che cos'è di fatto questo protodunk sharding? è il fulcro dell'aggiornamento di Dan Kuhn e rappresenta un passo fondamentale verso quella realizzazione, quella visione di Ethereum che voleva diventare una piattaforma globale per le applicazioni decentralizzate. Da un punto di vista tecnico, questa innovazione introduce un nuovo tipo di transazione chiamata Blob, che consente di archivare grandi quantità di dati sulla blockchain in modo più efficiente e conveniente rispetto ai metodi tradizionali. Chi utilizza i database avrà sentito parlare comunque di questo tipo di dati. I data Blob non sono altro che porzioni di dati che vengono salvate separatamente dalle normali transazioni in uno spazio dedicato e quindi possono avere dei costi inferiori. Come vedete qui, vengono archiviati temporaneamente nei nodi della rete del livello di consenso di Ethereum, i cosiddetti beacon node, e rimangono disponibili, mi pare, per circa due settimane prima di essere eliminati. Questo approccio quindi evita di congestionare la blockchain con quantità eccessive di dati derivanti dagli smart contacts, permette di memorizzare i Blob a un costo inferiore, riduce le commissioni di transazioni a beneficio degli utenti finali, con stima di diminuzione fino al 90-95% per i progetti di layer 2 come possono essere ad esempio Optimism o Arbitrum. Per quanto riguarda i layer 2, questo aggiornamento avrà un impatto significativo. Queste soluzioni layer 2 infatti contribuiscono alla scalabilità di Ethereum, raggruppando di fatto le transazioni degli utenti fuori dalla catena principale e inviandole in blocchi alla blockchain principale. Di fatto c'era già una decongestione del layer 1. Fino ad ora però questi layer 2 dovevano sostenere spese elevate per archiviare i dati delle transazioni su Ethereum. Con l'introduzione invece di questo brodo dunk sharding e quindi dei Blob, questi progetti potranno salvare dati in modo più efficiente ed economico. Questo consentirà di ridurre drasticamente i costi di utilizzo e quindi rende i layer 2 più competitivi e convenienti. Come vedete in questo tweet abbiamo già iniziato ad avere un calo delle fee, Abbiamo avuto mediamente quindi un calo con l'introduzione dei Blob, ovviamente questo dato tenderà a stabilizzarsi nel tempo ma è comunque un buon inizio. A regime infatti ci saranno molti layer 2 che utilizzeranno i Blob e quindi inevitabilmente queste fee tenderanno a salire leggermente rispetto ad oggi. Possiamo analizzare anche l'andamento medio delle fees di Ethereum in questa dashboard di Dune Analytics che vi metto in descrizione in cui possiamo vedere la tendenza media delle fee man mano che vengono utilizzate i Blob. Anche altri progetti come ad esempio l'account ufficiale di Starknet ha riportato come l'aggiornamento di Ethereum consente di risparmiare commissioni gas quindi sulla rete di Starknet riportandole a circa 0,01 0,04 centesimi di dollaro rispetto ai precedenti 2 dollari per transazione. Quindi stima una diminuzione di circa il 99%. Naturalmente anche altre soluzioni layer 2 come ad esempio BASE sostenuta da Coinbase hanno attivato l'aggiornamento Denkun riducendo notevolmente i costi delle transazioni. L'aumento di questa efficienza permetterà quindi ai layer 2 di gestire dei volumi di transazioni molto più elevati. È prevedibile che questi progetti cercheranno di sfruttare al massimo i vantaggi per attirare nuovi utenti innescando una qualche tipo di competizione virtuosa su chi riuscirà a offrire le tariffe più basse. Si creerà di fatto un marketplace delle fee. A mio parere abbiamo però troppi layer 2 e ci sarà sicuramente qualche progetto che non riuscirà a sopravvivere. Il prezzo di Ethereum però non ha reagito benissimo contrariamente alle attese. Se prendiamo infatti il grafico giornaliero notiamo che il prezzo ha subito una correzione dai 4.000 dollari a cui era arrivato in zona 3.800 e attualmente si trova come vedete qui sotto i 3.600 dollari. Ancora un'altra notizia per Ethereum questa volta arriva direttamente dal Senato degli Stati Uniti. I due senatori statunitensi del Partito Democratico hanno infatti inviato una lettera alla SEC, l'ente federale di controllo della borsa, chiedendo di non approvare ulteriori strumenti finanziari sulle criptovalute dopo il via libero data a gennaio agli ETF spot su Bitcoin. In particolare questi senatori, come leggiamo qui, hanno esortato il presidente della SEC, Gary Gensler, a non autorizzare ETF spot su Ethereum, nonostante ci siano diverse società di gestione e che abbiano presentato richiesta in tal senso nelle ultime settimane. I due senatori, che sono membri anche della commissione bancaria del Senato, ritengono gli ETF sulle cripto diverse da Bitcoin molto rischiose per gli investitori retail. Sostengono infatti che asset come Ethereum non abbiano ancora dei volumi di scambio tali da supportare strumenti finanziari di questo tipo. Insomma, sono abbastanza preoccupati di come potrà evolvere la situazione. Questa lettera ha portato anche preoccupazione tra gli operatori cripto, dato che finora si era diffuso un certo, diciamo, ottimismo. C'era già qualcuno che parlava di un'approvazione per maggio per quanto riguarda l'approvazione dell'ETF spot su Ethereum. Ricordiamoci che ci sono poi società del calibro di BlackRock e Fidelity che hanno già depositato la documentazione per questi prodotti. L'intervento dei due senatori sembra andare nella direzione opposta, probabilmente timorosi di eccessive deregolamentazioni in ambito cripto dopo il via libera agli ETF su Bitcoin. La SEC comunque dovrebbe essere un ente indipendente, non è comunque vincolata alle richieste dei politici e potrebbe decidere in autonomia se approvare o meno questi ETF. Tuttavia, questa presa di posizione rappresenta una notizia interessante in quanto rende l'esito dell'approvazione degli ETF un po' incerta e quindi porta un po' meno ottimismo sui tempi di approvazione. Altra notizia ovviamente su Solana. La blockchain di Solana sta vivendo infatti un momento di grande euforia e slancio spinta principalmente dall'esplosione, come vedete qui, delle meme coin e dall'aumento dell'attività sulla sua rete. Questo entusiasmo ha portato Solana a superare in questo momento i 200 dollari e come vedete ha portato anche a nuovi record sia in termini di volumi di transazioni on-chain che di commissioni totali pagate dagli utenti. Vedete qui come i volumi siano nettamente in aumento e il total value locked si attesta intorno ai 4,22 miliardi di dollari. Il volume delle transazioni infatti ha superato i 3,79 miliardi di dollari segnando di fatto un nuovo massimo storico. Attualmente, come vedete, il volume nelle ultime 24 ore si attesta poco sotto. Questa impennata dei volumi in gran parte è attribuibile alla mania delle meme coin che sta coinvolgendo l'ecosistema di Solana. In particolare, vedete qui i token WIF ma anche BONK. Ma ce ne sono tantissime altre. Infatti, queste meme coin continuano a registrare dei volumi significativi. L'aumento dell'attività della rete non si riflette solo nei volumi ma anche ovviamente nelle commissioni pagate dagli utenti. Secondo i dati di The Block, come vedete qui, le commissioni di transazione hanno raggiunto, come vedete, i 3,89 milioni di dollari. Questo dato evidenzia come l'ecosistema di Solana stia attirando sempre più utenti disposti a pagare commissioni basse per effettuare transazioni sulla rete. L'aumento delle commissioni totale è comunque un segnale positivo per la sostenibilità a lungo termine del progetto perché dimostra che c'è una disponibilità degli utenti comunque a investire risorse per utilizzare questa blockchain. Dal punto di vista on-chain, cresce anche l'adozione e l'attività sulla rete. Infatti, se analizziamo altri dati riportati da The Block, vedete che oltre ai volumi di scambio e le commissioni ci sono altri indicatori che testimoniano la crescente adozione e l'attività sulla rete. Innanzitutto, la media mobile a sette giorni degli indirizzi attivi continua a salire, raggiungendo 1,2 milioni di indirizzi registrati, livelli che non si vedevano comunque dal 2022. Ci sono stati più di 800.000 nuovi indirizzi registrati in un solo giorno e quindi c'è stato un altro massimo storico in questo senso. Per non parlare poi dell'aggregatore Jupiter, che è basato anche questo su Solana e che ha registrato nelle ultime ore volumi di scambi superiori addirittura a quello di Uniswap versione 3 per quanto riguarda Ethereum. Ovviamente, la mania delle meme coin e l'aumento delle attività sulla rete di Solana hanno spinto la capitalizzazione del mercato del token Sol fino a nuovi massimi annuali. Vedete qui che attualmente siamo a 208 dollari e siamo non molto distanti dal massimo storico realizzato durante la Burrano del 2021 a 260 dollari. Anche se andiamo su altri siti di analytics, come ad esempio Messari e altre piattaforme, notiamo che tutte le statistiche sono in aumento, non solo quindi volumi, ma anche indirizzi e dominance del mercato. Questi dati dimostrano come l'ecosistema di Solana sta attirando sempre più utenti e sviluppatori, consolidando la sua posizione come principale antagonista di Ethereum nel settore delle blockchain ad alte prestazioni. Insomma, Solana non deve aspettare alcun upgrade, già quasi pronta per progetti che hanno bisogno di reti veloci e scalabili. Un'altra notizia che farà sicuramente felici i massimalisti di Bitcoin e non solo è questa riportata da Cointelegraph. Come vedete, il 14 marzo un tribunale britannico ha emesso una sentenza definitiva sul caso Craig Wright contro Copa, decretando che Craig Wright non è Satoshi Nakamoto, il misterioso ideatore di Bitcoin. Per fare un breve riepilogo, vi ricordo che la causa era stata proprio intentata dalla Crypto Open Patent Alliance, cioè Copa contro Wright, che dal 2016 sosteneva pubblicamente di essere il creatore della criptovaluta, arrivando persino a registrare il copyright del white paper. Come leggiamo qui, Copa chiedeva che gli fosse vietato di continuare a presentarsi come Satoshi. Durante il processo, Wright è stato accusato di aver fabbricato una montagna di prove false per avvalorare la sua tesi. Il giudice che si è occupato del caso, analizzando l'evidenza, ha stabilito in modo inequivocabile che Wright ha deliberatamente mentito sulla sua identità, producendo documentazione contraffatta. Che cosa ha detto il giudice in buone parole? 1. Il dottor Wright non è l'autore del white paper di Bitcoin. 2. Craig Wright non è la persona che ha adottato o operato sotto lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto nel periodo che va dal 2008 al 2011. 3. Wright non è la persona che ha creato Bitcoin. 4. Non è l'autore neanche delle versioni iniziali del software di Bitcoin. Pertanto aspettiamo le motivazioni, ma è stato decretato che Wright non è il fondatore di Bitcoin né l'autore del white paper, respingendo quindi in toto tutte le sue rivendicazioni. Questa sentenza segna quindi una vittoria decisiva per la comunità cripto, ponendo fine a danni di controversie legali e dibattiti sull'effettiva identità di Satoshi Nakamoto. Con questa sentenza quindi Wright non potrà più avanzare le sue pretese di copyright sul white paper o tentare di monetizzare in alcun modo la sua fasulla asserzione di essere il creatore di Bitcoin. È veramente strano questo personaggio che in modo caparbio ha portato avanti la sua causa e le sue tesi nonostante le schiaccianti evidenze sulla falsità. Ora la parola definitiva del tribunale britannico chiude in modo inequivocabile a meno di ricorsi ovviamente che lo stesso Wright potrà presentare. Come abbiamo detto durante il recap, Bitcoin SV che è il progetto legato a Craig Wright è sceso parecchio dopo la notizia in questo grafico su time frame settimanale vedete che ha perso un bel po'. Certo secondo me non ci voleva un tribunale a ribadire che Wright non è Nakamoto il buon Craig è infatti prodotto per anni dei documenti falsi e dimostrato anche di non conoscere anche molte delle caratteristiche tecniche del protocollo Bitcoin quindi che non fosse Satoshi era ormai chiaro a tutti. Cambiamo notizie e parliamo di EtherFi che è il più grande protocollo di liquid restaking su Ethereum e ha recentemente annunciato i dettagli del suo prossimo airdrop di token di governance chiamato appunto ETHFI. Qui vedete infatti la notizia su X dell'airdrop che avrà inizio proprio oggi 18 marzo e distribuirà il token alla comunità di utenti e sostenitori del protocollo. Tuttavia a seguito di alcune critiche da parte della comunità riguardo alla locazione iniziale del token EtherFi ha deciso di apportare alcune modifiche al piano di distribuzione. Come vedete in questo post su X l'airdrop sarà infatti rilasciato in due fasi nella prima fase abbiamo il 6% dell'intera fornitura di token nella fase 2 invece avremo il 5% della fornitura di token questa seconda fase prenderà in considerazione le azioni degli utenti dal 15 marzo fino a una data futura che non è stata ancora specificata. Gli utenti avranno poi circa 90 giorni per fare la richiesta al sito ufficiale che è questo qui claim.ether.fi quindi attenzione agli scam e le truffe controllate bene questo indirizzo eventuali token non reclamati verranno aggiunti a quelli rilasciati in una seconda fase i token restanti saranno quindi suddivisi tra investitori partnership, contributor principali e ovviamente la treasury del protocollo per essere leggibili gli utenti dovranno ovviamente soddisfare alcuni criteri tra cui detenere ETH che è il token di staking liquido di EtherFi invitare gli amici, partecipare al protocollo o al programma Early Adopter lanciato proprio da ETH. Dopo l'annuncio però non sono mancate le polemiche come vedete alcuni membri della comunità hanno notato che Justin Sun il controverso fondatore di Tron avrebbe ricevuto quasi 3,5 milioni di token su un'allocazione iniziale di 60 milioni a seguito di un deposito di 20.000 ETH effettuato solo due giorni prima. Questa notizia ha scatenato numerose lamentere da parte della comunità di ETH che ha ritenuto ingiusta una distribuzione così grande ad un singolo individuo. Il fondatore di EtherFi però ha annunciato sul suo canale Discord il progetto che verranno distribuiti più token quindi ai membri della comunità con dei dettagli che saranno comunicati in seguito. È stata comunque in qualche modo difesa l'allocazione di Sun affermando che il protocollo non può cambiare le regole solo perché qualcuno ha effettuato un deposito enorme e che EtherFi comunque apprezza il sostegno di Justin Sun e onorerà le regole della campagna che ha stabilito inizialmente. Con le dovute considerazioni non è mai bello cambiare le regole in corsa. Abbiamo citato il restaking ma che cos'è? In pratica la possibilità di riutilizzare gli ETH che sono stati già vincolati tramite lo staking sulla blockchain di Ethereum per garantire sicurezza ad altri protocolli decentralizzati. A proposito di restaking potete consultare questo video sul nostro canale YouTube in cui abbiamo spiegato proprio come funziona questo meccanismo e quali sono i principali progetti da seguire tra cui Eigen Layer. E veniamo a qualche notizia di tecnologia. Injective Protocol, come sapete è un protocollo ad alte prestazioni, ha lanciato INEVM, una soluzione di Layer 2 che è compatibile con l'Ethereum Virtual Machine e che va a migliorare quella che è l'interoperabilità tra le blockchain Ethereum, Cosmos e Solana. Tra l'altro tra i dei nomi che secondo me saranno protagonisti nella prossima bull run. Che cos'è questo INEVM? Non è altro che un roll-up Layer 2 che consente agli sviluppatori di Ethereum di distribuire le loro applicazioni decentralizzate sulla rete di Injective Protocol senza doverne modificare il codice. Questo è possibile grazie, diciamo, alla compatibilità con l'ambiente EVM e il WebAssembly che permette un'integrazione con gli strumenti e i framework di sviluppo esistenti. Che significa interoperabilità? In pratica le applicazioni costruite su INEVM possono interagire direttamente con applicazioni native di questi ecosistemi e aprono quindi la strada a nuove opportunità di collaborazione. Qui vedete l'annuncio del rilascio di questa release e abbiamo quindi alcuni vantaggi velocità di transazione elevate accesso a un bacino più ampio di utenti e liquidità in quanto abbiamo anche l'interoperabilità con Cosmos e Solana la possibilità di sfruttare funzioni native e modelli di Injective per creare delle applicazioni più potenti e ambienti ovviamente di sviluppo più familiari basati su EVM e WASM che riducono comunque la curva di apprendimento per alcuni sviluppatori e facilitano anche la migrazione, se vogliamo, di applicazioni esistenti. In pratica Injective vuole creare una rete delle cosiddette electrochains cioè delle blockchain interconnesse tra loro che possono comunicare e scambiare valore in modo più efficiente. Vuole quindi di fatto superare quelle che sono le barriere tra diverse reti e promuovere una maggiore collaborazione. In ambito tecnologico quindi si sta andando sempre di più verso questa direzione dell'interoperabilità. Quindi seguite secondo me anche questi progetti che si occupano di queste tematiche. E veniamo al video della settimana. L'approfondimento in questa settimana riguarda il mondo delle altcoin e in particolare dell'altseason. Come sapete la crescita che stiamo vivendo di bitcoin e i grandi rialzi di progetti come Solana stanno portando di nuovo interesse nel settore e si torna dunque a parlare di una possibile altcoin season. Nel settore cripto questa fase diciamo è caratterizzata o meglio è stata caratterizzata in passato da una crescita esplosiva del valore delle altcoin cioè le cosiddette criptovalute alternative a bitcoin. E questa è sempre stata un'opportunità per ottenere i profitti più consistenti. Ma come si fa per prevedere l'arrivo di un altseason? In questo video che stai vedendo in questo momento abbiamo cercato di evidenziare le caratteristiche principali di un altseason e abbiamo visto alcuni grafici ed indicatori che possono aiutarci a individuare questa fase di mercato. Ovviamente non è detto che in questo ciclo di mercato ci sarà effettivamente un altseason. Ci sono progetti come Solana che già stanno andando verso gli old time high mentre altri probabilmente non li raggiungeranno più. Se ti interessa approfondire allora queste tematiche questo è un video che fa per te. Ovviamente vallo a vedere se ancora non l'hai fatto e se non sei iscritto ti ricordo di iscriverti al canale. Bene siamo arrivati alla fine di questo video e abbiamo visto quali sono state le notizie più importanti del mercato cripto. Nell'ultima settimana abbiamo visto grande euferie con bitcoin che è arrivato ai massimi storici prima di poi consolidare e ritracciare verso i 68.000 dollari. Ethereum ha poi rilasciato il suo aggiornamento Dankun che di fatto ha migliorato la scalabilità della rete portando a una riduzione significativa per quanto riguarda le fee sui layer 2. Continuano poi i dati positivi sugli ETF e bitcoin anche se non li abbiamo visti potete comunque seguire i profili social degli analisti di Bloomberg e oggi vedremo che cosa accadrà con l'apertura delle borse. Solana poi continua la sua crescita esplosiva abbiamo visto che ha toccato addirittura i 208 dollari grazie anche a alcune meme coin come Bonk e WIF che stanno letteralmente esplodendo. Non solo meme coin però abbiamo adozione numero crescente di indirizzi e volumi oltre al TVL che sta comunque crescendo anche su Solana. Sul fronte tecnologico Injective Protocol rilascia poi un interessante aggiornamento in WM un roll up layer 2 che è destinato alla interoperabilità tra Cosmos Solana e Ethereum. E poi continuano ovviamente gli airdrop questa volta il turno di EtherFi uno dei principali protocolli di liquid restaking su Ethereum. Probabilmente anche in questa settimana assisteremo a ulteriori colpi di scena vedremo che cosa accadrà nel mercato. Continuate a seguirci ovviamente per le ultime novità del settore qui stai vedendo la newsletter a cui ti invito a iscriverti ovviamente poi anche il canale Telegram gratuito per tutti gli utenti e il profilo X su cui pubblichiamo aggiornamenti regolarmente. Ti lascio poi in descrizione tutti i link relativi agli aggiornamenti di questo video ovviamente i links ai vari exchange per comprare cripto ed accedere ovviamente ai vari servizi. Come sempre ti ricordo di iscriverti al canale per supportarci a mettere un bel mi piace e attivare tutte le notifiche per rimanere aggiornato con tutti i prossimi contenuti. È sempre gratuito a te non costa nulla mi raccomando quindi iscriviti. Io ti ringrazio come sempre per l'attenzione per avermi seguito fino alla fine di questo video ti saluto e alla prossima.